Grazie a tutti. Voldemort, Nall, 2 Siu dei Greppi, 3 Unnoir, 4 Velox Mail, 5 Ribot ZS, 6 Zippo B, in seconda linea 8 Rogero P, 9 Victory Ru, 3 B. Favori del pronostico in chiusura per lo Unnoir, numero 3 Sandro Russo in sediolo. Zippo B, Ribot ZS e Voldemort, Nall, le prime alternative insieme a Rogero P. Intanto vediamo le fasi di lancio con un Noir veloce insieme a Velox Mail, mentre parte così così Voldemort, Nall, anzi piano, aveva sbagliato nell'ultima falsa e è partito con cautela Voldemort, Nall. Intanto Velox Mail cerca di farsi spazio alle spalle del leader e riesce al millimetro Velox Mail a superare Siu dei Greppi. 14,5 in lancio per Unnoir che conduce e ora Zippo B comincia la sua risalita all'esterno. Intanto Unnoir va a completare i 400 iniziali in 29,7. Seconda posizione per Velox Mail, poi Siu dei Greppi all'esterno Zippo B, lo segue Rogero P, poi anche Voldemort, Nall l'ha spostato. Lungo la corda c'è invece di Bozzetta S e più indietro Vittor di Ruot 3B che completa il gruppo. Tanto i 600 in 45,5, mantiene discreta andatura Unnoir raggiunto da Zippo B. In schiena Velox Mail in terza posizione Siu dei Greppi. All'esterno anche Roger Opie, gli 800 in un minuto e due decimi, continua a ritmo da 1,15 appena abbondante per il leader Unnoir. All'esterno Zippo B comunque si impegna, Velox Mail rimane a contatto, poi Siu dei Greppi. All'esterno anche Roger Opie seguito da Voldemort, Nall lungo la corda c'è invece di Bozzetta S, un chilometro che se ne va in 1,15,4. Ancora un 15,2 di frazione, 500 alla conclusione con Zippo che insiste all'esterno di Unnoir che si difende lungo la corda. Velox Mail, attacco ancora di Zippo B che si riporta su Unnoir, i due alle prese a 300 dalla conclusione, tallonati da Velox Mail, poi Roger Opie, ancora Voldemort Nall e Siu dei Greppi. Completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Zippo B che intensifica ancora i suoi sforzi su Unnoir a 150 dalla conclusione. Unnoir in vantaggio, Zippo B che ci prova ancora, lungo la corda c'è Velox Mail, nel finale lo scatto anche di Vittori Rue 3B sul traguardo, forse ancora Unnoir si salva. Ma è un arrivo serrato con Unnoir lungo la corda, all'interno Velox Mail, all'esterno a bomba Vittori Rue 3B. Arrivo da rivedere sicuramente in ralenti perché sono tre cavalli praticamente sulla stessa linea, impressione ottica che Unnoir riesca a salvare ancora qualcosa, ma ovviamente è un'impressione molto relativa perché i cavalli arrivano con tre velocità diverse e forse a centropista il più efficace è proprio Vittori Rue 3B. Ma andiamo a rivedere, ecco qui, ecco, forse proprio Vittori Rue 3B che stampa un Noir Velox Mail praticamente sulla stessa linea. Potrebbe essere quindi Vittori Rue 3B, estremo outsider con Lucia Pasqualini che mette tutti d'accordo, vedete da dove parte, riguardando il replay, dall'ultima posizione praticamente quarta ruota nello scurvare e finisce davvero fortissimo. E potrebbe essere, anzi, vediamo ora nel fermo immagine, è il vincitore Vittori Rue 3B, Lucia Pasqualini in sediolo, quota di 28,02 al totalizzatore. Il training di Vittori Rue 3B è quello di Stefano Tranchina, come detto la quota di 28,02 al totalizzatore. Secondo posto per un Noir che tiene a bada di precisione Velox Mail, 934, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della seconda Arcoveggio.